In questo momento sono tutti in delirio sulla fatturazione elettronica. Assolutamente sì. La domanda che mi ha fatto l'altro giorno, mi ricordo chi? Forse un tassista che si lamentava, si è entrato e si lamentava già. Fatturazione, cosa adesso, cosa vogliono, il digitale. Prima Uber per la fatturazione elettronica. Tutte loro ce l'hanno e in pratica è partito dicendo ma non gli bastava il pdf? Il pdf me l'ha venduto come fosse una rivoluzione digitale, come se fosse AI di alto livello. Io non ho detto niente. Perché non gli bastava il pdf? Perché c'è bisogno di questa roba? Perché il pdf non è uno standard semplicemente. Quindi dal pdf tu fai fatica ad estrarre in maniera digitale le informazioni perché ci sono infiniti modelli di pdf. Perché il pdf lo puoi costruire da un Word, da un Excel, lo puoi anche fare a mano, un pdf fondamentalmente. La differenza tra la fatturazione elettronica e un pdf o qualsiasi altra fattura sta nel fatto che c'è uno standard. Uno standard definito in questo caso dall'Agenzia delle Entrate, in XML, nello specifico, dove le informazioni devono stare esattamente in quel determinato punto per ogni fattura creata da ogni azienda italiana fondamentalmente. Se tu dovessi dire in 20 secondi da quando entra la fatturazione elettronica? Primo gennaio 2019, non per tutti, più o meno per metà delle aziende. Per metà delle aziende è obbligatorio avere questo. E questo significa che devi avere un sistema che trasmette e riceve le fatture secondo questo standard. E tra l'altro deve avere un sistema che le riceve anche se non sei obbligato a emetterle. Perché è vero che solamente metà delle aziende italiane saranno obbligate, però comunque le aziende inizieranno a riceverle. Perché se io ho un mio fornitore che è obbligato a fare la fatturazione elettronica, io non lo sono ancora, lui la fattura me la manda in XML e io la devo saper leggere, la devo saper ricevere. Ok. E la difficoltà principale secondo te qual è in questa fase di adozione? Ma in realtà la situazione non è drastica come sembra, perché adotti un software come Fatture in Cloud, ma come anche tanti altri, tutti i nostri competitor, e tu veramente in un attimo, in 5-10 minuti, hai la possibilità di fare fatture praticamente come facevi prima. Perché non è che devi rivoluzionare il modo di fare le fatture. Tu le fatture le fai sempre uguali e il software che anziché buttarti fuori un PDF, ti fa l'XML e lo invia al sistema dell'Agenzia delle Entrate. Stessa cosa per la ricezione, anzi per la ricezione è ancora più comodo. Perché se prima tu dovevi andare nelle mail, prendere i PDF, prendere le fatture che ti portavano su carta, scannerizzarle, eccetera, adesso se hai un software integrato con la ricezione delle fatture elettroniche, tu te le ritrovi direttamente lì. E siccome c'è uno standard, il software te le sa aprire, ti sa prendere tutti i dati con precisione al 100% e te le contabilizzi in automatico. Ma come funziona operativamente? Ti faccio le domande stupide che però fanno tutte le aziende ed è, secondo me, torna utile. Come funziona se uno dice ok, ho fatto questo lavoro, adesso mando la fattura, fino ad oggi tu pigli, alleghi via mail o mandi con la busta cartaglia, magari c'è qualcuno ancora che manda così. Ah, sicuro. Un sacco. Invece in questo nuovo modello come funziona? Devo mandare la fattura o cosa faccio? Tu fai la fattura, come hai sempre fatto, nel mio sistemino, e premi un bottone. Sì. Fine. Perché premendo quel bottone la fattura viene impacchettata nell'XML, viene firmata, viene inviata al sistema dell'agenzia delle entrate e poi è quel sistema che si chiama sistema di interscambio che le indirizza direttamente al tuo cliente. Ah, per cui. E quindi il tuo cliente la riceve sul gestionario, quindi non devi neanche più mandargli la mail. Se poi vuoi, puoi comunque anche mandargli la copia PDF che a questo punto non ha più valore legale. Ah, ok. E diciamo, una sola copia che accompagna la fattura, gliela mandi comunque via mail, come hai sempre fatto, se vuoi. Però è chiaro che attendere questa cosa, per cortesia, però attendere questa cosa non avrà più senso, perché attendere tutti avranno chiaramente dei software per gestire questa cosa e quindi dalle mail spariranno le fatture. Cosa buona e giusta. Cioè, voglio dire, tutte le aziende ringrazieranno tra qualche anno perché sarà molto più facile gestire tutto. In questo modo tu triangoli come se nel tuo sistema mettessi la mail, tra virgolette, del tuo destinatario. Esatto. Non c'è la mail, ma c'è il codice SD. Certo. Che è, diciamo, questo codice che è univoco a livello di software di ricezione, quindi noi per esempio abbiamo un codice che è uguale poi per tutto il gruppo Team System. Tutte le fatture che i fornitori mandano ai nostri clienti avranno indicato quel codice SD che sono questi sette caratteri alfanumerici fondamentalmente e nel momento in cui il nostro fornitore manda la fattura al sistema di interscambio, il sistema di interscambio apre l'XML e vede che c'è un certo codice SD. La manda al software, al gestionale e il gestionale legge la partita IV e la manda sull'azienda giusta. Quanto secondo te le aziende sono pronte oggi in Italia? È una bella domanda. Allora, noi vediamo che ci sono una marea di registrazioni su fatture in cloud, quindi diciamo che questa cosa chiaramente sentite, le aziende si stanno preparando. Ora, sicuramente non sono tutte ancora pronte. La cosa buona è che chiaramente quando l'azienda non è pronta chi si appoggia è il commercialista e noi stiamo lavorando per esempio tantissimo su commercialisti in modo da agevolare il più possibile nel rendere appunto pronte per il primo gennaio tutte le loro aziende. Ah. Perché chiaramente il commercialista è un po' il punto di riferimento. E il commercialista è contento di questa gestione più snella oppure no? Allora, quelli che capiscono chiaramente sì. Perché uno si può sentire minato nella sua professionalità o nelle attività. Diciamo che ci sono due categorie di commercialisti. Ci sono i commercialisti, quelli chiaramente un po' più smart, che capiscono e dicono è una figata. Perché giustamente c'è il software che fa tutto il data entry. Data entry attivo e passivo. Io come commercialista mi integro al software, mi registro, peraltro nel nostro caso è anche gratuito, e ho la possibilità poi di avere tutto in ordine. Non devo cercare il mio cliente per chiedergli la fattura mancante, per chiedergli l'acquisto mancante, per dirgli che non mi tornano più i conti sulla banca, che non riesco a riconciliare perché è tutto automatico. Chiaramente questi commercialisti sono quelli che hanno capito che da qui in poi, quindi tra dieci anni, esisterà solamente un lavoro consulenziale da parte loro. Un lavoro di consulenza fiscale, di consulenza sotto N ai punti di vista, che sarà poi il vero lavoro del commercialista. Tutto quello che è il data entry non è che sta andando a morire, è già morto. Cioè al primo gennaio è già morto tutto il data entry. Tutti i commercialisti invece, che spero siano pochi ancora, che sono diciamo un po' contro la fatturazione elettronica, o meglio che pensano che stiamo minando il loro lavoro, che questo sia un problema nel loro lavoro, non hanno capito tanto, perché se pensano che il loro lavoro, il loro valore aggiunto, sia il data entry, insomma c'è qualche problema e il problema non è la fatturazione elettronica. No, certo. E poi comunque... Se pensano che nel 2018 il data entry è il loro lavoro. C'è un livello di automazione poi in generale che fa sparire. Per forza. E a quel punto mi fa venire in mente il dubbio sulle aziende straniere. Cioè rispetto a un'azienda straniera che invece non ha questo sistema... Tu le metti comunque la fattura elettronica. Devi mettere 7 volte X in questo codice SD che ti ho detto prima. Chiaramente tu gli mandi anche il PDF perché se fai una fattura che sei in America... Però se compri da un'azienda straniera, l'azienda straniera non è integrata in questo sistema e ti manda il PDF. Corretto. In quel caso per adesso non c'è ancora un flusso definitivo. Probabilmente si dovrà fare un'autofattura elettronica. Però non c'è chiaramente problema. L'azienda estera non è obbligata a farti una fattura elettronica. Se no tutti nel sistema italiano. Tutti a inserire nell'agenzia dell'elettorato le proprie fatture. Ok, ok. Per cui insomma ci sarà sempre un periodo di adattamento per capire... Sì, assolutamente. Ma comunque già adesso dal primo gennaio non ci saranno sanzioni. sono stati esclusi i regimi forfettari quindi tutte quelle piccole partite IVA fino a 65.000 euro non sono ancora obbligate e comunque anche per tutti quelli che sono obbligati non ci sono sanzioni. Hai detto fino a 65.000 euro? Fino a 65.000 euro. Quindi hanno alzato il tetto? Hanno alzato il tetto, sì. Ah, wow. E loro almeno fino al primo gennaio 2020 non sono obbligati. Quindi comunque diciamo è un'entrata graduale non è che il primo gennaio crolla il mondo. Esatto. È incredibile come quando c'è un cambiamento c'è sempre poi gente molto preoccupata o io ho visto anche Beh, è normale. È normale. Alcuni video anche su questo tema che abbiamo fatto insieme nei commenti è incredibile vedere come c'è gente che dice bastardi come il tassista è la sindrome del tassista. Dicono a noi bastardi come se l'avessero fatta. Sì, cioè che dici ma voglio dire è un'evoluzione. Certo, certo. Infatti ci siamo presi un po' di insulti. Che fatico. Voi la fattura elettronica. Non capisco poi diciamo qual è il motivo perché alla fine dei conti se ti snellisce il flusso è solo del lavoro in meno che devi fare. Chiaramente se tu fatturi in meno è diverso. Loro guardano il punto di vista negativo devi pagare quei 50 euro in più all'anno di gestionale. Ho capito ma il costo che hai di capito tutti iniziano bene a utilizzare i gestionali capiscono che è un bel vantaggio. Cioè una volta che vedono che non devono più andare a cercare le fatture nelle mail che ce le hanno tutte belle lì in ordine nel gestionale sia quelle messe che quelle ricevute e invece tutti i rimborsi le... Beh quelli non sono toccati. Niente quindi ci si presenta sempre con la bustina a fine mese la si sbatte lì. Aspetta stiamo lavorando anche a quello però con dipendenti in cloud perché la cosa divertente è che ho fatto fatture in cloud perché io personalmente avevo il problema delle fatture perché avevo l'azienda di videogiochi stavo facendo tante fatture stavo ricevendo tante fatture avevo il problema della fatturazione quindi ho fatto fatture in cloud poi facendo fatture in cloud come azienda e assumendo dipendenti insomma adesso siamo diventati una ventina quindi abbiamo il problema di gestire le ferie rimborsi spese eccetera e allora ho lanciato dipendenti in cloud tu parti sempre a me piace molto è un approccio che condivido in pieno parti da un problema e spesso se è un problema che hai tu dici ok io prima ho lanciato 4books era un problema che avevo io di dire ma come faccio a velocizzare la lettura non trovavo mai un sistema che mi piacesse di abstract di libri cose così e quindi ho detto 4books potrebbe essere una soluzione parti da un problema che hai tu assolutamente anche perché almeno ti conosci bene certo ma infatti secondo me quello è stato forse il segreto principale del successo di fatture in cloud perché spesso le aziende partono con l'obiettivo di fare soldi fatture in cloud non è mai partita con l'obiettivo di fare soldi è partita con l'obiettivo di risolvere un problema un mio problema adesso però avete un fracasso dei clienti eh sì anche prima di non mi ricordo quanti ne avete quindi prima della fatturazione elettronica ne avevamo 40.000 più o meno 40.000 adesso ne abbiamo 100.000 wow più di 100.000 sì incredibile peraltro questo sarà un momento di abbiamo fatto una crescita esponenziale hai la come si chiama occhi stick occhi stick growth bellissimo cioè io fossi te non vedrei chiedono anche i miei colleghi però dell'assistenza cioè non vedrei l'ora di poter fare la presentazione da mettere il grafico dentro che dice ecco la nostra curva di crescita ce l'abbiamo ce l'abbiamo l'ho visto giusto l'altro giorno è proprio così proprio occhi stick sì sì momento pazzesco prima volta che faccio questa esperienza nella mia vita siamo completamente sott'acqua sotto ogni punto di vista sai c'è questa fase di crescita dove tu vedi mi sembra l'altro giorno guardavo un bel video su Y Combinator non mi ricordo di chi arca miseria mi sfugge il nome della startup comunque hanno scalato tipo da 0 a 200 milioni di fatturato in 18 mesi una roba del genere è una crescitina insomma così normale anzi bassa per quelli che sono gli standard di Y Combinator però la cosa interessante è proprio come cambia un'azienda nei vari momenti magari le persone che ti portano a far 10 milioni di fatturato non sono quelle che poi ti portano a scalare su servono competenze diverse anche perché magari uno non l'ha mai fatto non sa come far crescere no è vero certo e anche la cultura aziendale come tieni la cultura aziendale viva e attiva perché magari all'inizio hai dei principi poi l'azienda cresce ma diciamo che la mia idea è quello che cerco di fare spero di riuscirci anche in futuro è quella di mantenere comunque un ambiente da startup infatti mi piace sempre dire che noi siamo ancora una startup anche se fatturiamo 5-6 milioni siamo ancora una startup e quindi diciamo è un ambiente molto molto lean in cui non ci sono le persone che fanno solamente il loro lavoro ma per dirti ci sono le persone del customer support che fanno una marea di altre cose e a cui diamo comunque la possibilità di crescere sul marketing su webinar su tantissime iniziative che facciamo e l'altra cosa è appunto fare tante iniziative per esempio avevamo lanciato vita da startup che era tutta una serie di video che facevamo vedere appunto quello che facevamo poi purtroppo l'abbiamo messo in stand by perché siamo appunto completamente sottacco in questo momento non riusciamo neanche andare in bagno mi diverte sempre questo concetto dei principi tutti dicono che una startup deve avere dei principi saldi una propria cultura e c'era questo aneddoto che ho sentito che mi ha molto divertito dove ad un certo punto un CEO di un'azienda amministratore delegato arriva e dice allora è importante raccogli tutti i dipendenti noi dobbiamo comportarci come se fossimo una grande famiglia e tutti va bene siamo una grande famiglia e finisce questa riunione e c'è una 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 signora con un bambino con il gelato nell'atrio no? che sta aspettando tipo il marito e il bambino ha il gelato in mano e cade giù il gelato e a questo punto la mamma è lì che sta discutendo e arriva una persona del team che si incazza come una pantera no? e dice ma non puoi far cadere il gelato qui capito in azienda e allora questo CEO va da questa persona e dice scusa ma abbiamo appena detto che bisogna comportarsi come fosse una grande famiglia e questo dice sì ma io in famiglia lo scrivo è come se per cui oltre al principio servono poi delle regole pratiche e concrete voi avete una specie di manualetto delle indicazioni diciamo per tenere la cultura salda o siete ancora in quella fase dove siete comunque tutti abbastanza a contatto e quindi non ce n'è bisogno sì in realtà la seconda per ora per ora la seconda quello che ti posso dire è che abbiamo fatto invece un bel lavoro di organizzazione perché diciamo che mi sono accorto che nello scalare da una decina più o meno di persone fino alle 20 che siamo ora iniziava a scricchiolare un po' il modello di organizzazione quindi lì ci sono delle regole scritte utilizziamo wall drive per scambiarci le cose abbiamo degli excel dove ci organizziamo appunto sotto diversi punti di vista e questo è stato un po' game changer ed è stato il passaggio che abbiamo fatto appunto dei 10 ai 20 dipendenti come hai vissuto il passaggio tuo da one man band individualista faccio tutto io sono tutto io a questo punto devo delegare non posso avere le mani in pasta su tutto perché se no è un casino sei comunque ancora centratore immagino di carattere però come come l'hai vissuto fa ridere la storia perché prima hai citato l'acquisizione appunto abbiamo dei soci degli investitori che hanno acquisito il 51% e hanno tuttora il 51% dell'azienda e fondamentalmente quando c'è stato quel passaggio siamo passati dall'essere quelle due persone che eravamo lavoravamo ancora in camera lavoravo in cameretta e anche il mio collega Matteo all'essere 3, 4, 5 persone subito diciamo dal day one dal day two da dopo l'investimento da dopo l'acquisizione perché in realtà non c'è nemmeno stato un investimento monetario e diciamo che in quel momento che insomma ero un po' stanchino perché mi ero fatto un anno e mezzo due anni full gestivo io addirittura i ticket d'assistenza e quindi nella mia testa c'era chiaramente l'idea di delegare ovviamente perché l'azienda stava crescendo per forza devo delegare e allora io pensavo al tempo vabbè dai bene delego così insomma io riesco a occuparmi un pochettino di più di fare l'amministratore delegato e insomma mi tranquillizzo anche un po' perché sennò divento matto a gestire lo sviluppo il marketing l'assistenza clienti e quant'altro no e in realtà da quel momento in poi ogni anno è peggiorata la situazione quindi ogni anno prendevamo persone in più e nella mia testa c'era una che bella adesso prendiamo persone in più cresciamo adesso siamo diventati inventi e mi sembra di essere ritornato quando ancora studiavo all'università che lavoravo fino alle 3 di notte e mi svegliavo alle 7 del mattino in realtà è ancora tuttora così anche perché è un po' questo lo spirito poi avendo un socio dentro comunque un'azienda grossa strutturata non è che puoi fare il cazzo che vuoi cioè devi comunque fare un report cioè un consiglio di amministrazione cioè devi fare il bilancio il 5 di ogni mese il bilancio il coso pensa in blogosfera noi solo le 24 ore quando entrò ci mise dentro un collegio sindacale ogni 45 giorni e noi cioè diciamo ma che collegio sindacale cioè siamo una startuppina no vabbè diciamo che da quel punto di vista siamo anche stati fortunati comunque ad aver trovato un partner che non ci ostacola quello per l'amor di Dio non ci ha mai ostacolato anzi ci ha sempre aiutato dal punto di vista della crescita però è chiaro che comunque insomma ci sono delle regole quindi appunto bisogna chiudere il bilancio il giorno X quindi un po' di cose sono cambiate se prima il bilancio non lo vedevo fino a marzo dell'anno dopo adesso il bilancio va chiuso veramente il 5 del mese dopo quindi molto più stricto però è un aiuto anche a essere più organizzati è vero assolutamente è un aiuto a essere più organizzati c'è una regola il fatto che tutti se se vai nei commenti su YouTube o Facebook e parli di start up il commento standard se dovessi fare una media è sì ma tu vivi in Inghilterra Montemagno ma vieni qua in Italia come se io capite in Italia non ci fossi mai stato o non avessi capito una branch italiana di un'azienda cioè la gente parla così in teoria e il lamento classico è proprio questo qua ma l'Italia invece è difficile è un casino è quello che è che da un lato è vero nel senso noi appunto abbiamo aperto la branch italiana e è incredibile usate fatture in cloud fatture in cloud il commercialista ha detto dovete usarlo ho detto vabbè usiamo questo software però è pazzesco vedere quanto sia più burocratico anche soltanto aprire un'azienda qui che che se ne dica che è facile aprire la start up comunque notai o cose le solite robe di vent'anni fa rispetto all'Inghilterra dove in dieci secondi è aperta un'azienda però poi voglio dire se tu fai business lo fai dappertutto giochi a quelle regole lì se no non fare un'azienda però di fatto tu vedi oggi un sacco di aziende italiane start up italiane che funzionano nonostante le regole che ci siano uno lo fa alla fine assolutamente allora diciamo che da una parte sono d'accordo e dall'altra parte no allora è vero che c'è un sacco di burocrazia infatti secondo me il problema della burocrazia è il principale problema in Italia prima ancora delle tasse anche perché poi voglio dire diciamo finché l'azienda non diventa grossa e fa utili delle tasse te ne frega poco è un problema tanto non c'è una idea è un problema esatto noi abbiamo chiuso i primi tre bilanci a zero praticamente perché investivamo tutti di tasse le abbiamo pagate praticamente zero giustamente non facevamo utile quindi quello è un problema la burocrazia è insomma rompe le scatole questo è vero rompe le scatole perché chiaramente se tu mi dici in Inghilterra in Irlanda l'azienda l'apre online in tre secondi ce l'hai e non hai problemi in Italia è vero che c'è qualche costo in più e qualche rottura di scatole in più dall'altra parte però questa cosa comunque non è bloccante se tu hai in mente un business che funziona cioè quindi è the end of the day se comunque tu stai facendo un business che funziona poco cambia se lo fai in Italia in Irlanda in Inghilterra se hai lanciato una cosa che non funziona non funziona né in Inghilterra ma non funziona nemmeno in Italia anzi il paradosso è che hai una barriera di ingresso rispetto a tutti quelli che dicono no però puoi lanciare un casino e quindi togli già una parte di concorrenza di gente che non ci prova neanche e l'altro vantaggio che hai è che l'Italia come mercato è molto più facile rispetto a un mercato magari super competitivo beh da questo punto di vista sì noi comunque siamo stati molto vantaggiati da questa cosa perché chiaramente non avevamo tanti competitor affiatati i competitor esteri peraltro e qui siamo stati siamo stati avvantaggiati dalla burocrazia quindi se prima è una barriera di ingresso da considerare è una barriera di ingresso certo i competitor esteri non hanno mai pensato nemmeno tuttora con la fatturazione elettronica Xero QuickBooks eccetera non sono in Italia non gli interessa essere in Italia però nel momento in cui crescete insomma ricordati ricordati dello zio Monti insomma quando quando ti arriva la telefonata che dice da Xero facciamo due chiacchiere Daniele ci interessa la vostra realtà perché comunque insomma è un settore io penso il problema spesso è riuscire a creare in un paese come l'Italia una start up che mette chiarezza e organizzazione in un settore complicato come può essere ad esempio la fatturazione e una volta che tutti i tasselli sono a posto per un player molto più grosso internazionale è molto difficile capito ci puoi mettere tutti i soldi che vuoi però e quindi diventa molto più facile chiamarti e dire cerchiamo di acquisirvi perché avete già risolto il problema e noi dobbiamo semplicemente girarvi del grano e entrare sul mercato non è molto più per cui tutto lo sforzo che fai all'inizio in realtà poi lo riprendi come prodotto finale che vai a costruire assolutamente quali sono prospettive future da qua i prossimi 12 mesi resistere all'onda della resistere non morire non morire no diciamo la sfida principale che stiamo affrontando adesso è proprio veramente quella di scalare abbiamo il problema inverso proprio della diciamo della della classica azienda italiana quindi quello proprio di riuscire a scalare riuscire a assumere abbastanza in fretta le persone e insomma far fronte proprio a questo trend pazzesco di esplosione e dall'altra parte l'obiettivo è anche quello di lanciare i dipendenti in cloud che è la nostra prima spin off e quindi diciamo avere successo anche con con quella iniziativa e cambiare un pochettino anche il paradigma di gestione di dipendenti che adesso sono gestiti un po' tutti su carta sul calendarietto col pennarello scrivere le ore le ferie un po' alla buona vogliamo cambiare un po' il paradigma e in questo caso è veramente un blue ocean perché diciamo che se nella fatturazione già esistevano dei competitor quindi magari non erano fatti benissimo non erano online però c'erano dei competitor sulla gestione di dipendenti parlo della gestione di dipendenti lato azienda perché chiaramente i gestionali dei consulenti del lavoro e dei commercialisti per fare le buste paga già esistono e non è quello che vogliamo far noi però dare alle aziende anche piccole anche solo da 5-10 dipendenti in mano uno strumento che gli permette di gestire in modo un pochettino più smart le fere dei dipendenti piuttosto che rimborsi spese le comunicazioni e tantissime altre cose questo è veramente un blue ocean perché non ce ne sono di altre start up che fanno questo in Italia e poi dopo questa esperienza se sopravvivete puoi fare sopravvivere in cloud esatto bravo che secondo me che secondo me avrebbe grande successo sulla parte dei dipendenti dei collaboratori come ti muovi sentivo un'intervista a una founder di una società di fitness che diceva che loro spesso fanno delle interviste dove portano sul palco alcune persone e fanno diciamo dei colloqui di gruppo e chi non è sul palco pensa che sta guardando a un colloquio di lavoro in intervista in realtà loro stanno osservando le reazioni di quelli nel pubblico per vedere se è gente che reagisce nel modo giusto rispetto alla cultura dell'azienda quindi ogni azienda poi cerca di trovare le sue le sue figo figa diciamo dinamiche quali sono i vostri modi per reclutare nuove persone avete diciamo un'idea chiara di che tipologia di persone vi serve con che attitudine allora quello che ti posso dire è che cerchiamo innanzitutto persone che abbiano voglia di fare quindi non persone che pensino di entrare in un'azienda grossa dove fanno esattamente quel lavoro che gli viene detto per da lì fino al resto della vita quindi cerchiamo tendenzialmente persone giovani comunque noi siamo un team di 30 anni più o meno di età media e uno 26 e quindi io non potrei mai entrare in fattore in cloud magari come centralinista mi proporrò un giorno diciamo che appunto la caratteristica principale che guardiamo comunque è un po' la voglia di mettere tutto se stessi nell'azienda la voglia di crescere comunque quindi di lavorare su più ambiti e non solamente di fare l'assistenza clienti piuttosto che ma anche se guardi gli sviluppatori comunque noi cerchiamo degli sviluppatori che vediamo che già nel loro piccolo personalmente cerchino sempre di dare il massimo quindi ti dico gli ultimi sviluppatori che abbiamo preso non sono degli sviluppatori con tanta esperienza anzi il penultimo sviluppatore che abbiamo preso che è bravissimo si è appena laureato l'abbiamo preso perché nel suo piccolo aveva fatto in particolare lui un bot per pokemon go quindi lui mentre studiava all'università aveva fatto questo bot per pokemon go e appena io ho visto quella cosa ho detto ok è la persona giusta prendiamola perché nel suo piccolo si era lanciato nel fare insomma una cosina che comunque piccola però è sempre diciamo sempre un progettino personale e quindi questa cosa è molto apprezzata da parte mia come ti gestisci diciamo nell'ottovolante di fare un'azienda è sempre interessante da collega è sempre interessante così capire quali sono le dinamiche o quali sono le routine le abitudini che uno usa per tenere diciamo in equilibrio il manicomio e la follia aziendale allora nella teoria perché poi non è che riesco sempre è chiaramente distinguere tutte le cose importanti e le cose urgenti rispetto a tutto il rumore di sottofondo fondamentalmente quindi diciamo che ogni giorno io ho dei task che sono urgenti e quindi sono le cose che veramente devo fare che sono le cose che tengono in piedi le aziende in questo momento il nostro task urgente è rimettere un po' rifare un po' diciamo tutta l'organizzazione dell'assistenza clienti perché siamo totalmente sommersi stiamo facendo 40 volte le aziende registrate rispetto a due mesi fa quindi siamo totalmente sommersi dobbiamo creare un meccanismo che aiuti le persone a risolvere i problemi prima ancora di contattarci in modo da spostare sulle persone i problemi veramente non risolvibili in maniera automatica quindi tantissime persone ora ci fanno delle domande molto simili o comunque ci sono dei problemi di interfaccia di user interface perché chiaramente abbiamo dei difetti anche noi quindi la stiamo rifacendo in questo momento e quindi l'obiettivo è quello proprio di lavorare a quel livello per evitare che si scarichi a terra tutto questo numero di aziende in termini di ticket di assistenza per esempio quindi questa è la cosa urgente che stiamo facendo e quindi sto cercando di limitare tutto il rumore di sottofondo a volte ci sono anche delle cose importanti che però non sono urgenti come questa cosa perché se questa cosa non riusciamo a farla a gennaio ci ritroviamo veramente sottoterra con l'assistenza clienti esatto per cui distingui urgente e importante come esatto sì urgente e importante poi chiaramente c'è tutto il resto ma se tu dovessi dire tu oggi ti concentri su che cosa il quale è il tuo core come founder come CEO entra in azienda e dici ok le mie priorità sono beh prima di tutto far funzionare tutto in questo caso abbiamo questa criticità dovuta allo scaling e quindi insomma devo capire come far funzionare tutto dall'altra parte devo diciamo sempre tenere un occhio vigile al futuro quindi ragionare un pochettino di long term questo è il breve periodo quindi breve periodo ci stiamo occupando di fatture in cloud della fatturazione elettronica dell'assistenza eccetera dall'altra parte ho appunto un occhio attento sul lungo periodo quindi dove vogliamo arrivare da qui a 5 anni e mi ricollego sempre per esempio con dipendenti in cloud quindi noi abbiamo tutto un piano di lunghissimo periodo da qui a n anni in cui mi immagino che dipendenti in cloud un ecosistema in cui dipendenti in cloud lo daremo a ogni dipendente d'Italia gratis anche se la sua azienda non lo usa in modo che lui bottom up lo porti all'azienda bottom up lo porti al commercialista per il commercialista gratis l'azienda chiaramente paga l'abbonamento per utilizzarlo dall'altra parte chiaramente una volta che noi diamo dipendenti in cloud dall'azienda l'azienda si prende anche fatture in cloud e guarda caso una volta che portiamo nell'ecosistema il commercialista il commercialista poi usa anche fatture in cloud quindi ho un po' quest'idea qua che adesso te l'ho detta magari un po' limitativa però c'è proprio quella di creare un ecosistema che aiuti tutto il mondo delle aziende e anche comunque dei commercialisti nel lungo periodo sotto una vasta gamma di funzionalità fondamentalmente come fai a valutare se una funzionalità davvero serve è una bella domanda questa oppure no perché spesso tu hai magari una tua visione o voi avete come team una visione o delle richieste però puoi stabilire se realmente il mercato poi la usa perché magari uno ti dice ho bisogno assolutamente bisogno di questo ma poi non è realmente quello di cui ha bisogno che cosa fate per mettere priorità allora è una bella domanda ed è difficilissimo risponderti beh innanzitutto primo perché non l'abbiamo capito nemmeno noi in questo momento molto bene perché ti dico onestamente abbiamo fatto anche noi tanti buchi nell'acqua basandoci o sulle nostre idee o addirittura anche basandoci direttamente sulle richieste degli utenti cioè quello che è capitato è che a noi veniva in mente un'idea spaziale che figata lanciamo la sarà game changer in realtà poi la usano tre utenti dall'altra parte cosa è successo recentemente qualche mese fa c'era arrivata la richiesta da pareva tanti utenti che volessero le riba e allora ci siamo messi lì abbiamo fatto le riba le abbiamo lanciate ho guardato giusto il mese scorso quanto le stavano utilizzando il 2% degli utenti ho detto ma come tutti gli utenti ce l'avevano chiesto e poi la volevate ci rompevate le scatole tutti ci commentavate sotto ogni post di facebook sì ma le riba quando arrivano così l'abbiamo fatta però effettivamente poi solo il 2% la usa quindi è difficile questa cosa è veramente molto difficile anche perché a volte a volte ci sono delle cose che utilizzerebbero il 60 il 70% degli utenti ma che non sono così importanti diciamo che non sono vitali così come magari ci sono delle cose vitali che però utilizzerebbero solo il 2% degli utenti quindi la voce di quel 2% degli utenti è più forte della voce di quel 70% degli utenti che non trovano la cosa vitale e qui è un po' un trade off è chiaro che la direzione in cui possiamo andare come gestionale è quella di riuscire ad accontentare il numero maggiore di utenti anche perché non possiamo fare un gestionale che funzioni solamente per una nicchia di utenti infatti non è un gestionale verticale fatture in cloud è un gestionale molto orizzontale deve coprire diciamo esatto l'80% delle esigenze medie delle persone fondamentalmente e quindi è una bella domanda perché è difficile capire effettivamente ogni funzionalità quale caratteristica ha come promozione avete qualche strategia particolare oggi diciamo siete dentro in questo rullo virtuoso per cui avete probabilmente poca necessità anche di promuovervi nel senso che in realtà siamo o state ugualmente spingendo la nostra idea è quella di fare tutto tutto quindi abbiamo iniziato a fare televisione da novembre dell'anno scorso abbiamo fatto abbiamo girato tutte le reti italiane tutte siamo tuttora in radio che avevamo già testato due anni fa e siamo attualmente in radio come funziona oggi fare spot televisivi radiofonici come risultati avete visto allora molto interessante la cosa perché la prima volta che siamo andati in televisione io disse all'agenzia va bene ma adesso come misuriamo questa cosa e loro ci risposero in awareness quindi facciamo le ricerche di Nielsen prendiamo le persone per strada e tu hai detto no ma io voglio bravissimo hai detto no io voglio i numeri allora mi misi a fare un sistemino con cui vedevo i picchi di traffico che arrivavano dalla televisione come funzionava c'era un pixel di tracciamento come quelli di facebook e google che si mettono nei siti web questo pixel di tracciamento inseriva una riga nel nostro db ogni volta che una persona nuova quindi visitava per la prima volta alla landing page del nostro sito www.fattoringcloud.it e fondamentalmente noi vediamo una sorta di sismografo quindi vediamo delle barre di questo tipo quando c'è uno spot di colpo c'è una barra altissima che poi scende e si vede quando c'è lo spot e si vede questo in realtà non lo sapevo ancora però prima di partire allora ho detto beh metti in piedi questo sistema ogni volta che c'è uno spot io so l'orario perché chiaramente sappiamo quando abbiamo comprato lo spot calcolo la media che so dei 5 minuti precedenti e quella è la baseline vedo il delta dovuto a questo picco ulteriore gli tolgo la media e effettivamente io so che quel determinato spot che mi è costato che so 3000 euro ha portato 5000 utenti bravissimo esatto magari 5000 5000 sarebbe un bel picco insomma qualche centinaio di utenti mi ha portato il sito questo cosa cosa mi permette di fare questo mi permette di ottimizzare gli spot perché chiaramente se io so che pago uno spot 1000 euro mi fa fare 100 e poi ne pago un altro 3000 mi fa fare 10 chiaramente quello pagato 1000 è meglio e quindi questo mi permette di fare i bitesting tra fasce orarie programmi e anche canali e emittenti fondamentalmente questa era la prima idea però c'era un problema cioè va bene questo io ottimizzo gli spot so quali spot funzionano e quali no ma come faccio a capire quanti soldoni mi portano gli spot allora dall'altra parte quando gli utenti poi si registrano la piattaforma io gli chiedo per caso c'hai visti sullo spot in televisione si dove su mediaset sulla 7 su sky eccetera e quindi in questo modo noi sappiamo che abbiamo speso quel mese lì x di spot li abbiamo ottimizzati perché li possiamo ottimizzare immediatamente secondo questi picchi di traffico e sappiamo anche che questi x spot hanno portato y utenti registrati sul campione e riapplicando quel campione a tutta la popolazione degli utenti registrati in fatture in cloud sappiamo stimare più o meno quanto ci è costato un ambiente registrato ecco quando ho raccontato questa cosa all'agenzia mi hanno detto tu sei matto mi hanno detto non si può fare assolutamente una cosa del genere sei pazzo non ti uscirebbe nulla e abbiamo licenziato l'agenzia infatti stavo dicendo invece mi sembra perfetto ha funzionato questa cosa e abbiamo lasciato a casa l'agenzia perché poi ci siamo trovati male per altri motivi però fondamentalmente questa cosa ha funzionato e ci ha permesso di ottimizzare di un fattore 10 gli spot quindi i primi spot che avevamo fatto a sentore perché secondo noi era meglio andare su un programma piuttosto che un altro effettivamente performavano 10 volte di meno degli spot fatti poi con i numeri perché poi hai calcolato in sostanza picco di traffico esco sulla 7 vedo che ho 100 utenti 100 utenti questi 100 utenti tolgo la baseline vedo quanti comprano e so che la 7 porta X quindi se col test iniziale io avrei detto senza questo sistema di analisi in tv non ci andremo mai più in tutta la nostra vita con tutti gli algoritmi che ho messo in piedi per fare queste analisi e ottimizzare abbiamo ottimizzato di più di 10 volte e quindi da aprile siamo praticamente live ogni giorno in televisione per cui lo re-puti positivo cosa costa oggi pianificare in tv indicativamente di che budget si parla per fare qualcosa di sensato 20.000 euro a settimana quindi 80.000 euro al mese più o meno e riesci a fare una pianificazione una pianificazione sensata sì 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 discreta e radio funziona? allora radio devo dire che è un pochettino più difficile da monitorare perché non puoi vedere i picchi perché chiaramente la radio tu quando lo ascolti in macchina quindi nessuno vuole che le persone faccia gli incidenti in macchina perché vanno sul sito di fatture in cloud e quindi fondamentalmente è chiaro che non hai la possibilità di vedere quei picchi che arrivano come la televisione perché se il second screen vige quando diciamo fa da padrone quando guardi la televisione quindi chiunque ha il telefono a meno di un metro di distanza e quindi tu vedi la pubblicità ti interessa cosa fai? prendi lo smartphone e guardi in cloud.it e ci vai con la radio è molto più difficile quindi con la radio abbiamo solo la possibilità di basarci sulla survey di provenienza da dove sei arrivato? anche un pezzettino quindi è molto più difficile ad ottimizzare e la parte online dove investite voi? allora online investiamo Facebook, Instagram, YouTube search esatto cosa fate? Facebook, Instagram, YouTube Google e Real Time Bidding programmatica di tutto c'è qualcosa che emerge in questo momento c'è un posto allora devo dire che devo dire che c'è un trend molto positivo dovuto alla fatturazione elettronica soprattutto su Facebook avevo un po' dato per spacciata perché il bello è che io sono partito con Facebook un posto peraltro dove nessuno dei miei competitor stava investendo perché chiaramente se tu pensi al B2B pensi a LinkedIn al massimo a Google ma non pensi a Facebook io in realtà ero partito dall'altra parte quindi da Facebook perché comunque se tu ci pensi B2B sì però comunque la persona che gestisce l'azienda è su Facebook e quindi io la prendo diciamo dal punto di vista personale e poi la porto sul mio software anche se è B2B io sono partito da Facebook convertendo a 2,50€ per utente che erano numeri pazzeschi facevamo centinaia di utenti al giorno a poche centinaia di euro e a un certo punto però l'abbiamo saturato Facebook cioè fino a qualche mese fa non riuscivamo più ad acquisire perché ormai ci hanno visti tutti in tutte le sales abbiamo anche fatto un sacco di video che diciamo è uno degli ambiti che stiamo portando avanti più pesantemente quello di creare contenuti video rispetto alle classiche pubblicità con l'immaginetta e invece quello che è successo con la fatturazione elettronica è che diciamo questo canale che avevo un po' dato per spacciato ha ripreso a funzionare quindi stiamo convertendo ancora una marea adesso da Facebook e in generale comunque da tutti i canali proprio perché c'è l'hype della fatturazione elettronica secondo te durerà fino a fine gennaio una cosa del genere? allora sicuramente adesso c'è un momento di hype quindi stiamo crescendo anche in questa maniera da autistic perché c'è proprio l'hype allora io mi immagino che almeno fino a febbraio-marzo questo hype durerà in maniera pesante poi è chiaro che si tornerà a regime con chiaramente uno scalino superi rispetto alle persone che si interessavano prima mondo intelligenza artificiale tutto questo mondo qua lo state integrando dentro allora devo dire che abbiamo iniziato molto tempo fa a integrarlo da una mia idea che si chiamava Genius si chiama Genius tuttora fondamentalmente un algoritmo che prende in passo il pdf o la scansione della fattura e analizza i dati allora è ovvio che tutto questo adesso inizia ad avere un pochettino meno senso perché chiaramente con la fattura elettronica attendere i dati saranno già digitalizzati quindi non c'è bisogno di estrarre dati da un pdf dall'altra parte però l'analisi resta valida esatto dall'altra parte mi attira comunque sempre molto il mondo dell'intelligenza artificiale e lo applicheremo su Dipendenti in Cloud per la lettura delle buste paga quindi tu carichi le buste paga dei dipendenti io estraggo i dati e te li diciamo digitalizzo e ti permetto di fare delle analisi su che so sul cuno fiscale sugli stipendi dei dipendenti sulle ferie su un sacco di altre cose molto interessanti dall'altra parte su fatture in cloud ci potrebbe essere utile è un'idea proprio che ho da un po' di tempo però chiaramente dovremmo avere poi tempo per sviluppare una cosa che arriverà nei prossimi anni diciamo aiutare dal punto di vista della business intelligence anche con l'intelligenza artificiale le aziende quindi vedendo i trend passati vedendo tutto lo storico fino a quel momento fare delle stime per diciamo i mesi successivi quindi stime dei pagamenti quanti soldi avrai in cassa tra tre mesi sapendo che tutti i clienti che hai ti pagano in tempi diversi alcuni ti pagano in ritardo alcuni ti pagano in anticipo pochi probabilmente eccetera quindi fare dei sistemi del genere con un pochettino di machine learning niente di super spaziale nasa eccetera però insomma degli algoritmi del genere potrebbero essere molto carini appena lo fai se mi metti un comandino vocale dove io posso sono lì e dico risparmiamo e lui dice dove questo devi fare guadagniamo di più così questo sarebbe utilissimo grazie Daniele bocca al lupo per tutto grazie grazie a tutti grazie a tutti